E come dico in praticamente un mio video, eccoci quindi qua ragazzi allora, benvenuti nel video serale di questa giornata parliamo un pochino della protesta che è avvenuta sotto la sede della AS Roma da parte di un nutrito numero di tifosi giallorossi qualcuno parla di 300 persone ma da alcune testimonianze del luogo si dice che il numero sia addirittura maggiore sono stati fatti molti cori, molti insulti come era lecito aspettarsi, diversi striscioni legati a De Rossi, legati a Pallotta e legati allo stadio allora io non faccio mai di tutta l'herba un fascio, non l'ho mai fatto e non lo farò certo in questo momento quando parlo dei miei fratelli giallorossi perché io considero i tifosi da Roma miei fratelli diciamo quello che però non capisco è perché debbano essere usati certi slogan, debbano essere dette certe cose che in realtà fanno solamente il male della Roma io posso accettare le polemiche su qualsiasi cosa le posso accettare sulla stagione che è passata finora deludente sotto ogni punto di vista le posso accettare sulla dirigenza soprattutto su Pallotta che non si fa mai sentire e quando lo fa sbaglia quasi sempre visto l'ultima questione De Rossi che comunque è di pesa anche da una sua totale assenza come presidente, come figura all'interno dell'ambiente giallorosso di Roma le accetto di qualsiasi cosa accetto le proteste perché non è stato rinnovato il contratto De Rossi anche se secondo me sono giuste fino a un certo punto perché non è che De Rossi se ne va via a 28 anni ma a 36 anni e per quanto doveva assolutamente essere trattato in un altro modo per quanto io l'avrei assolutamente rinnovato almeno per un altro anno capisco le polemiche ma fino a un certo punto quello che però non capisco per niente è lo striscione no al nuovo stadio con tanto di coro inerente noi lo stadio non lo vogliamo una roba del genere un qualcosa che è veramente assurdo perché non capisco per quale motivo effettivamente lo stadio non debba farsi cioè se già persone che vogliono andare contro la Roma stanno facendo di tutto per non farci neanche partire il progetto tra l'altro una cosa veramente ridicola che ho visto è che qualcuno ha condiviso un post di pallotta di quasi un anno fa in cui disse il progetto per lo stadio è pronto speriamo non ci siano ulteriori rallentamenti e dopo un anno ancora non è stata fatta neanche la prima pietra non è stata messa il primo mattone ditelo come cazzo vi pare e la cosa che mi preoccupa è che queste persone in realtà ti fanno Roma e ti fando Roma come puoi minimamente volere che questa cosa non venga fatta allora lo stadio sarebbe un vantaggio indipendentemente dalla persona che c'è in presidenza perché ricordatevi lo stadio se si farà perché in questo momento la situazione è bloccata e essendo ignorante in materia non so quando si sbloccherà lo stadio sarebbe della Roma non sarebbe di proprietà di pallotta che se metti caso lui se ne va via si porta via anche lo stadio lo stadio se venisse costruito sarebbe un vantaggio enorme per tutta la Roma non per pallotta, per la Roma perché avresti introiti maggiori daresti più lavoro a più persone la squadra potrebbe quindi rinforzarsi facendo acquisti di livello e tu comunque avresti un impianto all'avanguardia rispetto all'Olimpico che per quanto a livello emotivo per me rimane sempre nel cuore è uno stadio con parecchi difetti perché la pista di atletica rimane tuttora inutile se si considera uno stadio di calcio con i tifosi che vogliono veramente vedere la partita io sono stato l'altra volta in distinti sud e per quanto l'ho vista discretamente bene è normale che si vede molto lontano soprattutto dall'altra parte dello stadio lo stadio nuovo sarebbe un vantaggio enorme per tutti e io credo che su questo punto non si possa dire veramente nulla a pallotta e in generale alla dirigenza giallorossa si possono criticare per centomila motivi per l'assenza totale in questo genere di situazioni per alcuni comportamenti per alcune scelte fatte e scellerate sia a livello dirigenziale che a livello di giocatori però cercare di farci del male da soli spingendo per far sì che qualcosa che ci porta vantaggio non si fa spero di usare termini... cioè comunque le linee temporali giuste è qualcosa di ridicolo perché mi sembra veramente che ormai in questo momento si cerchi qualsiasi pretesto per lamentarsi non c'è una cosa che va bene e De Rossi non va bene e ci sta la stagione non va bene e ci sta gli allenatori è che Giampaolo non mi piace questo non mi piace, questo non mi piace e questo non ci sta ne volevo parlare in un altro video ma vi faccio un piccolo appunto in questo qualsiasi allenatore viene accostato alla Roma non va bene è Mourinho e non va bene è Sarri è imperdente Gasperini è antipatico e Giampaolo fa schifo io sono d'accordo che molti di questi nomi non piacciono soprattutto se pensiamo al fatto che qualche settimana fa Conte sembrava ad un passo però cerchiamo di essere realistici con la situazione attuale della Roma che è in totale difficoltà ed è un punto interrogativo grosso come tutta la capitale quindi non possiamo pretendere che Mourinho, questa gente qua, venga da noi a piedi addirittura c'è gente che possa accettare qualsiasi opinione che non vorrebbe per nulla Allegri cioè io capisco che Allegri magari non possa piacere a tutti ma tu romanista veramente diresti di no alla possibilità di vedere Allegri sulla tua panchina ma dimmi tu chi vuoi vedere cioè dimmi tu guardando la nostra situazione e la situazione degli allenatori disponibili chi vuoi effettivamente vedere perché io ho letto critiche pesantissime nei confronti di Gasperini a sto punto lo dico in questo video senza che ne faccia un altro soltanto perché è stato avvicinato e soltanto perché è stato accostato alla Roma molti giornali infatti stanno dicendo che la Roma gli ha offerto un triennale a 2 milioni e mezzo all'anno l'allenatore sembra essersi convinto di questa possibilità e già solo da questa notizia tutti ma no ma che schifo è un perdente vaffanculo che schifo cioè almeno io non dico di essere per forza contenti ma almeno date il tempo alle persone uno di arrivare e due di fare male per criticarle cioè non posso leggere commenti di critica a questo allenatore quando ancora non è sicuro che viene quando ancora deve fare le cose che farà come l'allenatore della Roma quando ancora non ci sono motivi per criticarlo io posso dire non mi piace ma leggere offese nei suoi confronti come se chissà che avesse fatto semplicemente perché gli piacerebbe l'opzione Roma mi sembra veramente ridicolo e deleterio nei confronti suoi e della stessa Roma perché rompe di coglione a qualcuno che ancora potrebbe arrivare perché è ridicolo cioè io non sono per con questo non sto dicendo che uno non è libero di dire la propria opinione ma almeno se vuoi criticarlo perché non lo reputi adatto alla Roma aspetta di vedere quello che farà come allenatore visto che tu tifoso non puoi effettivamente decidere cioè noi siamo tutti spettatori di quello che succede possiamo dire quello che pensiamo ma criticare e offendere certe persone quando ancora devono toccare il terreno di Roma mi sembra veramente una cosa ridicola così come è appunto ridicolo criticare il progetto stadio soltanto perché si vuole la partenza di Pallotta il prima possibile è qualcosa di imbarazzante perché noi pensiamo veramente che Pallotta è lo stadio se c'è lo stadio ci sarà per forza Pallotta in eterno non è così perché Pallotta sicuramente rimarrà nel periodo in cui si verrà costruito lo stadio ma quando lo stadio verrà fatto sarà un vantaggio di proporzioni clamorose ovviamente i tifosi non segnano i tifosi non vincono da soli i trofei ma vuoi mettere a avere un vantaggio economico fin da subito e non essere sempre costretti ad arrivare per forza in Champions perché se no bisogna per forza cedere un giocatore pensateci a questo vantaggio prima di dire certe stronzate perché se Pallotta veramente si stanca se ne va via e lo stadio non si fa più dopo non è detto che si va in meglio non è detto che arrivano i fantomatici sceicchi del Qatar dello Zimbabue perché le V ci sono tante ma non è detto che se Pallotta decide di andarsene via di sicuro tu miglioreresti potresti prenderti un Ferrero 2 oppure lo stesso Ferrero dopo voglio vedere quando ripenseremo eh ma Pallotta in fondo non era così male perché tanto è così in questo momento è facile lamentarsi di qualsiasi cosa lamentatevi almeno delle cose di cui è giusto lamentarsi lamentatevi dell'assenza del presidente e ci sta benissimo lamentatevi della stagione alta allenante della squadra ma non lamentatevi del progetto stadio come se fosse una cosa che si potrebbe fare che se lo fai sei costretto a tenerti Pallotta a vita lo stadio non sarà di Pallotta non sarebbe ormai dico perché ormai non si sa se si verrà fatto o meno ma sarebbe della Roma con introiti che andrebbero tutti a favore della società Roma chiuso questo discorso fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate sia di questo sia della questione Gasperino in generale comunque della questione degli allenatori che vengono criticati ancora prima di diventare appunto allenatori della Roma un saluto dal vostro graditore giallorosso e ci vediamo domani per un altro video sempre e comunque forza Roma oggi più che mai in una delle peggiori situazioni degli ultimi anni cerchiamo di stare vicino alla squadra proviamoci almeno ciao ragazzi grazie grazie Grazie.